Riaperto dal mese di maggio, il Museo del Palazzo Malatestiano offre ai visitatori un programma che da luglio a settembre valorizzerà le preziose collezioni permanenti con attività ed esperienze dedicate a grandi e piccoli. Dal 4 luglio ha preso il via dalla fibula alla spilla, un percorso espositivo temporaneo che permette al pubblico di fare un viaggio nei secoli e ripercorrere le tappe salienti dell'evoluzione di questo particolare gioiello che ha sempre avuto un ruolo fondamentale tra gli ornamenti femminili. Dal 30 maggio insieme agli altri comuni ci siamo confrontati, abbiamo deciso di riaprire rispettando tutte le norme di sicurezza, naturalmente la mascherina è d'obbligo quando si viene al museo e anche la prenotazione obbligatoria, questa è una cosa nuova ma necessaria. La novità di quest'estate è che abbiamo deciso sulla scia anche di un tema nazionale di concentrarci sulle nostre bellezze locali, abbiamo deciso di mettere in mostra i nostri depositi e abbiamo quindi all'interno del museo sia nella sezione archeologica che in Pinacoteca un percorso dedicato al gioiello che va dai Piceni all'ultima donazione del Novecento, quindi un percorso molto interessante. L'invito che come amministrazione mi sento di fare è di visitare il nostro programma, la seconda domenica del mese l'ingresso è gratuito ma soprattutto il martedì sera estivo è dedicato a famiglie e bambini, questo è un bellissimo messaggio da lanciare, abbiamo un pubblico che ci segue fedele e speriamo sempre di accogliere più persone possibili. In numerose sono le iniziative e le attività di approfondimento tutte a cura di Sistema Museo. Le domeniche del 26 luglio e del 2 agosto saranno dedicate alla fotografia con un photo tour al museo e una missione ben precisa, raccontare il museo del Palazzo Malatestiano, i suoi ambienti, le opere, i particolari. Gran finale con una esperienza teatralizzata per famiglie, domenica 23 agosto alle ore 21. I più belli anni Raffaello si racconta. A 500 anni dalla morte l'artista Urbinatti in persona accompagnerà i partecipanti in visita alla città raccontando di sede l'apprendistato con il padre e il perugino a Fano e via via la sua storia tra prestigiose commissioni, amori sublimi e la ricerca della perfezione. Questo percorso dalla fibula alla spilla intende soffermarsi su un particolare tipo di ornamento, appunto la spilla, partendo dalle sue antenate, ovvero le fibule e gli spilloni. Quindi partiamo dalla sezione archeologica dove troviamo appunto gli spilloni e le fibule di età picena e romana per poi salire nella Pinacoteca dove troviamo le spille del Settecento che vengono raffigurate sui ricchi abiti delle nobiltonne ritratte dal pittore fanese Sebastiano Ceccarini. Accanto a queste nobiltonne troviamo esposti i gioielli donati da Adriano Perlini nel 2018. Tra questi gioielli spicca appunto una spilla di concezione del tutto innovativa. A guidare il visitatore lungo il percorso ci sono dei pannelli e all'interno di questi pannelli, al di là delle didascalie, ci sono degli approfondimenti grazie appunto dei codici QR che sono rivolti ad un duplice pubblico, un pubblico adulto ma anche un pubblico di bambini. In particolare i contenuti per i bambini sono stati arricchiti dalla voce della contessa Gavuccini Passionei che ritroviamo raffigurata in uno dei due ritratti e che guiderà appunto sala per sala i bambini in questo percorso nell'evoluzione di questo particolare ornamento appunto dalla fibula alla spilla. Grazie. Grazie. Grazie.